Salve a tutti ragazzi, vi do il benvenuto alla prima parte, o primo episodio, non so come chiamarlo, deciderò poi in seguito, della mia nuova serie dedicata a Minecraft, non narrata con loquendo ma fatta con la mia voce. Quindi direi di non perdere tempo in chiacchiere, ho iniziato direttamente dalla schermata principale di Minecraft, perché diciamo che questa non sarà solo una serie, ma sarà anche una specie di gameplay, uno dei primi gameplay che faccio in tutta la mia vita. Perché voglio anche insegnare a chi gioca a Minecraft per la prima volta o per chi ancora non è capace ad usarlo, voglio appunto insegnarli ad usarlo, mi sto ripetendo. Quindi vado a creare il nuovo mondo che farò per la serie, lo chiamo Minecraft Adventures e creiamo il nuovo mondo. Allora, agli inizi, vabbè, non sarà niente di interessante perché farò le solite cose che si fanno ogni volta che si inizia a giocare a Minecraft. Quindi raccolgo il legno, me lo faccio il legno lavorato, mi faccio la casa, il rifugio, gli attrezzi, eccetera. Non sarà niente di eccezionale. Ecco, ho caricato il mondo adesso. Allora, lo sto facendo con la skin predefinita di Minecraft, anche se volevo farlo con la LB Photorealism, che è quella che uso nella serie di Assassin's Creed Minecraft. Ed ecco che mi sta dando anche qualche momento di lag. Non so se voi lo sentite, ma c'è un orologio che sta fischiando a tutt'andare. Ah, ragazzi, vi dico già da subito che mi scuso per l'audio, che purtroppo non potrete sentire del gioco. Però non so perché, Fraps, qui su Windows XP, non mi fa registrare l'audio del sistema. E quindi spero di trovare una soluzione il prima possibile, ma per il momento dovrete sopportare il rumore del mio mouse e della mia tastiera mentre salto. Quindi, oddio! Beh, iniziamo bene, ragazzi. Non ho neanche iniziato a spaccare niente che mi sono già fatto male. U delle zucche, iniziamo a raccogliarle, vai, che fanno sempre bene. Comunque, ok. Ok, inizio subito a dirvi un paio di cose. Allora, ho deciso di fare questa serie di Minecraft, anzi forse sentite il rumore di Minecraft dalle mie cuffiette. Comunque, dicevo, ho iniziato a fare questa serie di Minecraft principalmente per un motivo. Ecco, perché purtroppo non potrò praticamente più usare... Levati! Levati! Dicevo, non potrò praticamente più usare il mio portatile. In che senso? Allora, come ho accennato nel video update di qualche tempo fa, io, cioè io, al mio computer si sono rotti i cristalli liquidi. Non vi sto a dire come perché è tutta una storia lunga. E quindi l'ho portato da un tizio per farmelo aggiustare, che è anche un amico di famiglia. Solo che lui ci ha detto, meglio, ha detto a mia madre che per ripararlo servono, per ripararlo completamente, anche per rimetterlo a nuovo, servono almeno, cioè almeno, servono circa 250 euro. che io non ho... Non ho... Non ho? Oh, sì, sì. Bene ragazzi, iniziamo già con i fail. Dicevo appunto che non ho... E non ho neanche la minima intenzione di pagarli. L'unica soluzione sarebbe di usarlo usando il monitor che sto usando adesso, dello schermo del fisso. solo che è uno schermo in 4 terzi che fa letteralmente cagare quindi diciamo che non potrò più usarlo quindi tutte le serie sono annullate a cominciare da Assassin's Creed Minecraft e anche tutti i tutorial però non temete perché cercherò di trovare una soluzione comunque lasciamo perdere i miei pianistei e continuiamo a fare questa avventura e appunto come vi ho detto non so se ve l'ho detto ve l'avevo detto all'inizio, boh non mi ricordo vabbè ve lo ripeto comunque questa non sarà appunto solo una serie dedicata alle mie avventure in Minecraft vediamo il sole dov'è, perfetto per le mie avventure in Minecraft ma sarà anche una specie di tutorial, gameplay per sopravvivere in un certo sonso in un certo sonso oddio mio ragazzi in un certo senso nel mondo di Minecraft quindi come potete ben vedere come prima cosa sto raccogliendo la legna che è una delle prime cose che bisogna fare appena si gioca è una procedura un po' noiosa ma poi più avanti quando ci faremo gli strumenti giusti come l'ascia sarà tutto più veloce e più rapido questo è un albero ragazzi che odio particolarmente perché è troppo alto anzi no forse no no perfetto ah spacchiamo qua mi ero dimenticato di questo pezzetto ok direi che questi pezzi possono bastare e vediamo dove un allevamento di zucche noccio noccio sei stato particolarmente generoso con me ragazzi so che all'apparenza possono sembrare inutili queste zucche ma vi posso assicurare che possono servire ok allora spacchiamone altre due un'altra perfetto ora come prima cosa creiamoci un bel rifugio vediamo un po' un rifugio nella montagna dai tanto per iniziare allora prima di tutto andiamo a farci il legno lavorato me ne lascio un po' così almeno più avanti posso farmi aspetta mettiamo lasciamocene cinque perfetto ok aspetta facciamoci tre quattro ok perfetto facciamo la workbench ok bene anche un achievement perfetto ragazzi questa parte queste prime parti saranno molto noiose ve lo assicuro perché sono appunto ripeto le solite cose che si fanno in minecraft quindi non aspettatevi tutto questo che è anche adesso facciamoci gli strumenti essenziali che li ho fatti ok direi di partire vediamo un po' dove sta il sole bene siamo già a mezzogiorno ok iniziamo quindi ragazzi come prima cosa appunto quando iniziate un'avventura in minecraft dovete costruirvi un primo rifugio un rifugio che si consiglia a farvelo sotto terra come delle talpe assatanate oppure come sto facendo io adesso ve lo fate ve lo fate ve lo fate dentro una montagna naturalmente vi serviranno prima una pala che vi ho fatto vedere come si fa e il piccone di legno questi sono i materi come si chiamano gli strumenti base per appunto modellare il mondo di minecraft la pala serve per scavare più velocemente la terra mentre il piccone come possiamo vedere adesso ci servirà per spaccare i cubetti di roccia che sono questi questa è tutta roccia lavorata però quando andremo a spaccarla come vedete ci creerà la stone la cobblestone che è questa qua che è appunto la pietra grezza che diventerà pietra lavorata se la cuociamo con la fornace comunque appunto questo piccone in legno serve per spaccare la si sto anche perdendo il nome aspettate io piazzo qua perché ok perfetto ho perso il filo del discorso non mi importa oh che fortuna ragazzi abbiamo trovato il carbone quindi non dovrò cuocere quel scusate ragazzi se esco ogni tanto ma voglio vedere a che punto sto con il sole allora vediamo un po' 13 ok continuiamo a scavare ragazzi se trovate il carbone mentre state scavando una montagna all'inizio del primo giorno avete davvero un culo bestiale perché appunto col carbone ci potrete fare le torce quando fate le torce quando piazzerete una torce lo dice credo che sia una cosa anche logica potrete illuminare le parti che sono al buio ma non solo infatti nelle parti in cui nelle parti in cui c'è buio compariranno i cosiddetti mob che sono dei mostri che tenteranno di di attaccarvi in una delle prossime parti episodi non so ancora come chiamarle andremo appunto a caccia di questi mostri bastardi quindi non so che dire adesso continuiamo a spaccare questo come si chiama oddio mio questo carbone continuiamo a spaccare comunque dato che il piccone è di ferro eh sì di ferro ragazzi ho bisogno di un insegnante di edizione cazzo comunque dato che il piccone di legno sta per finire è meglio che mi prenda più roccia possibile così almeno posso crearmi quello in roccia che è più potente di quello in legno e continuo a spaccare intanto ragazzi avrete sicuramente notato e ve l'ho anche detto che ho lasciato un po' di legno grezzo forse vi siete chiesti perché l'ho lasciato appunto perché credevo di non poter trovare il carbone dentro la grotta quindi ero già pronto alle evenienze e invece guardate un po' che culo l'ho trovato la classica fortuna dei principianti appunto l'ho fatto perché volevo far vedere per chi non avesse appunto ancora trovato il carbone durante lo scavamento come poter creare appunto il carbone avendo una fornace legno grezzo e legno lavorato comunque ecco vedete che è già finito il piccone di legno ora il sole sta a tramontare quindi mi sposto la workbench dentro appena sera notte chiudo questo primo giorno quindi scusate se vedete poco però non è colpa mia allora quindi ah creiamo la fornace che si crea in questo modo uno due e tre ecco qua ecco questa è la fornace come vi ho detto grazie alla fornace potremo cuocere appunto qualsiasi qualsiasi cosa più o meno quindi se non trovate carbone nei primi giorni basterà fare così prendete del legno lavorato lo mettete sotto e il legno normale invece lo mettete qua sopra in questo modo la fornace cuocerà questo legno e lo trasformerà in in corciol che sarebbe il carbone del legno comunque adesso come potete vedere sta aspetta un attimo devo controllare una cosa no perfetto scusate come potete vedere sta tramontando il sole e bisogna fare in fretta perché di notte compaiono i mostri quindi adesso io prendo un po' di terra ce l'avevo già fanculo prendo un po' di terra per coprirmi per intanto faccio un'entrata di quelle belle perché sarà anche un rifugio provvisorio ma voglio una cosa fatta con stile quindi possiamo lasciare anche benissimo un cubetto aperto così aspettate mi metto qua vabbè una volta che avremmo creato questo carbone tramite il wood che sarebbe il legno possiamo prelevarlo e crearci le torce adesso vedrete un po' buio ma non vi preoccupate per creare le torce basta aprire l'inventario prendere gli stick mettere il carbone qua e ci saremmo creati le torce ecco qua 20 torce possono bastare ora scusatemi per il buio rimedio subito opla eccovi a voi delle torce mi raccomando piazzatele per bene in modo che la stanza sia tutta bella illuminata adesso ne approfitto per crearmi un piccone di pietra che è più resistente di quello in legno eccoci qua e quindi niente io direi di chiudere qua questo giorno credo di aver ampiamente superato i 15 minuti spero che questa parte vi sia piaciuta e aspetterò che passi la notte e riprenderò quando appunto sarà giorno quindi un saluto a tutti e alla prossima grazie a tutti